La Regione ha ribadito il no alla realizzazione della centrale SNAM a Sulmona, negando di fatto l'intesa con lo Stato. L'opposizione della Regione rimette adesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la decisione finale. Abbiamo ribadito la nostra contrarietà all'intesa sull'opera, come avevamo già dichiarato nella delibera del luglio scorso. Continuiamo a ritenere necessaria l'istituzione di un tavolo con il Ministero e la stessa SNAM per individuare soluzioni alternative a quelle oggi in atto. E quanto ha dichiarato l'assessore regionale all'ambiente Mario Mazzocca intervenuto questa mattina a Roma alla conferenza di servizi. Mazzocca ribadisce tre questioni pregiudiziali, no ad un procedimento amministrativo, in assenza della valutazione ambientale strategica e in assenza della valutazione di impatto ambientale unica. L'opera prosegue Mazzocca, dato il suo carattere di decisa unitarietà, va sottoposta ad una procedura di valutazione di impatto ambientale unica e non a cinque procedure separate come avvenuto. Si tratta di un modus operandi confermato anche dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea, in base alla quale non risulta accettabile che un progetto complesso venga artificialmente ed arbitrariamente suddiviso in varie parti. Il mancato approfondimento di una possibile reale alternativa di un percorso in prossimità della fascia interna della linea di costa ha evidentemente, dice ancora Mazzocca, influenzato il comportamento della Commissione di valutazione di impatto ambientale, che si è limitata a prendere in esame esclusivamente il tracciato proposto sulla dorsale appenninica, vale a dire, proprio la soluzione che presenta le più elevate criticità sul piano ambientale, idrogeologico e soprattutto sismico. In definitiva, afferma ancora l'assessore Mazzocca, continuiamo a ricercare una possibile condivisione con il governo riguardo ad una soluzione alternativa che scongiuri la realizzazione della centrale Snamma-Sulmona in un sito ad alta valenza storico-architettonico-ambientale ubicato tra l'abbadia morronese e l'eremo celestiniano, oltre che connotato da un elevato grado di ricettività tellurica. Ora la palla passa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'avvio della procedura decisoria entro la fine di gennaio e l'assunzione della competente decisione finale. Mi auguro, conclude l'assessore Mazzocca, che in questa sede si possa trovare un accordo su una soluzione alternativa. In mancanza, avverte l'assessore all'ambiente, la Presidenza del Consiglio dei Ministri potrebbe avvocare a sé il procedimento e decidere in maniera monocratica anche in presenza del diniego della Regione. Sarebbe un caso più unico che raro.